E adesso andiamo in Bielorussia, Monica. Andiamo in Bielorussia perché c'è stato ieri l'insediamento di Lukashenko, in realtà un insediamento avvenuto un po' in gran segreto. Comunque ieri si è espresso anche in Mattarella, sapete che da mesi ormai la Minsk, la capitale, è invasa da proteste molto sentite, molto partecipate. Siamo in collegamento con Eleonora Tafuro, ricercatrice dell'ISPI. Buongiorno, dottoressa. Ci spiega che cosa sta succedendo in Bielorussia, perché ci sono quelle proteste e perché ieri il nostro Presidente della Repubblica ha preso una posizione molto precisa dicendo che è inaccettabile quello che sta succedendo in quei luoghi. Sì, le dichiarazioni di Mattarella sono appunto una presa di posizione decisa in un contesto in cui in generale abbiamo avuto una condanna abbastanza di basso profilo, per così dire, da parte della Farnesina. E sono state dette queste dichiarazioni proprio il giorno dell'insediamento del governo di Lukashenko. Quindi possono anche essere lette come un monito al governo italiano affinché non riconosca il Lukashenko come Presidente legittimo, così come ha già fatto il Parlamento europeo con una risoluzione il 17 settembre e così come hanno fatto altri paesi europei, tra cui la Germania. E anche gli Stati Uniti d'America, no? Sì, esattamente. C'è un po' questa condanna verso le depressioni delle proteste, repressioni che sono sempre più dure, che appunto non risparmiano nessuno, nemmeno donne anziane, le cosiddette babushki, che sono in piazza a protestare. Bisogna però mettere in contesto, io penso, le dichiarazioni di Mattarella sono state pronunciate appunto in una riunione con Duda, con il Presidente polacco. La Polonia è un attore regionale importante, è un vicino della Bielorussia, ha degli interessi concreti nei confronti di questo paese, alcuni molto legittimi, come appunto evitare un flusso eventuale di rifugiati vittime della repressione. Chiaro, grazie, l'onorata Furo. Grazie, dottoressa, grazie.